Buongiorno amici di Quotidiano.net, questa è la nostra web tv, siamo qui per parlare dell'Inter e in particolare del successo nei quarti di finale della Champions contro il CSKA, 1-0 gol di Milito e della notizia dell'ultima ora. Cioè Mario Balotelli ha chiesto ufficialmente scusa all'Inter ed è molto probabile che venga reintegrato nella partita contro il Bologna in programma sabato prossimo. E' così Isabie? Certamente questa pace improvvisa con tanto di comunicato pubblicato sul sito dell'Inter è propedeutica alla recupero di Balotelli che ricordiamolo per sei partite consecutive è stato escluso su scelta tecnica di Murigno dalla formazione titolare dei campioni d'Italia. Si potrebbe dire era ora perché francamente questa vicenda aveva stufato e questa vicenda stava facendo molto male non soltanto a Balotelli ma alla stessa Inter. Ieri sera noi abbiamo visto i nero azzurri battere il CSKA a Mosca per 1-0 nell'andata dei quarti di finale della Champions League ma nel primo tempo hanno faticato molto, nella ripresa hanno sbagliato altrettanto e l'augurio è che non si debbano pentire la settimana prossima quando giocheranno a Mosca la gara di ritorno in 6 aprile delle occasioni sprecate. La partita di ieri sera sembrava fatta apposta per Balotelli. Molti errori di tiro, anche buone parate del portiere del CSKA a Mosca che si è confermato decisamente un ottimo estremo difensore. Comunque l'Inter ha adesso la prospettiva aperta anche del campionato visto che c'è la Roma che si è ravvicinata a un punto e il Milan che dista 3. Insidiosa comunque la trasferta di Bologna oppure sarà una semplice formalità per i nero azzurri? No, secondo me è molto insidiosa Beppe anche perché il Bologna deve necessariamente fare punti, queste tre sconfitte consecutive che hanno annellato la squadra di Colomba non l'hanno ripiombata in zona B, anche perché le dirette concorrenti nell'ultimo tour di campionato hanno perso, però non si può sperare nella salvezza fidando soltanto nei risultati avversi delle concorrenti, peraltro come i nostri amici ricorderanno un mese fa sembrava che la salvezza del Bologna fosse una cosa fatta e invece le incertezze societarie, le nuove voci sulla possibile cessione del club, il rinvio, il rinnovo del contratto di Colomba, Baraldi in stand by, mi pare che tutto concorra a creare una situazione delicata, certo per il Bologna questa partita qualora venisse vinta significherebbe la salvezza. Grazie Isabel Jacobelli, grazie a voi e ai nostri amici ascoltatori che ci hanno seguito. Ai prossimi appuntamenti con lo sport. Grazie a voi.